Musica Clonavano carte di credito con l'aiuto dei dipendenti delle poste di Napoli, coinvolti in 14 in tre regioni Campania-Lazio ed Emilia-Romagna, incastrati anche due dipendenti del comune partenopeo. Continuano senza sosta le ricerche di Giuseppe Pettorossi, il pensionato ottantenne di Basilice, di cui non si hanno più notizie da sabato scorso. Estorsione ai danni di un imprenditore di Mercogliano, settantenne arrestato. Niente doppi turni per la San Filippo, il comune di Benevento mette a disposizione tre aule, Mastella, a margine di un incontro in prefettura, commenta Palazzo Mosti non è in alcun modo coinvolto nelle vicende che riguardano il convitto. 650 lavoratori della FCA di Pomigliano a rischio trasferta a Cassino, attesa per l'incontro, sindacati e azienda per discutere la proposta. Relazione al Parlamento del Ministero della Salute, in Italia aumentano i celiaci, più 11.000 diagnosi in due anni, Campania al top. Nuovo appuntamento dedicato all'informazione di Media TV, ben ritrovati clonavano carte di credito con la complicità di dipendenti postali, scattano gli arresti coinvolte 14 persone, nei guai anche due dipendenti del comune di Napoli. Il servizio? Con l'aiuto di due dipendenti delle poste, di due dipendenti del comune di Napoli, clonavano carte di credito con le quali acquistavano costosi smartphone di ultima generazione. Una banda composta da 14 persone che ha fatto acquisti per circa 300.000 euro in tre regioni, Campania, Lazio ed Emilia Romagna. L'organizzazione criminale è stata sgominata dai carabinieri di Napoli, che hanno eseguito misure cautelari tra Campania e Lazio. Quattro sono finiti in carcere, sei ai domiciliari. I dipendenti sono stati invece sospesi. I passaggi chiave della vicenda sono stati documentati dai militari attraverso dei video. Le carte di credito venivano trafugate nei centri di smistamento postale del capologo campano con la complicità dei dipendenti delle poste durante il tragitto per la spedizione a casa dei titolari e poi clonate. Per gli acquisti venivano poi abbinati a documenti falsi prodotti, con i dati sensibili forniti da due dipendenti dell'anagrafe del Comune di Napoli, che è estraneo alla vicenda. Assicurati alla giustizia i due capi del gruppo, gli unici ad avere contatti con i referenti alle poste e al Comune, e con l'hacker che clonava le carte e contraffaceva e falsificava i documenti, sette persone andavano a fare gli acquisti e il ricettatore che piazzava sul mercato i telefonini a prezzi quasi uguali a quelli di mercato, facendo intravedere l'affare agli acquirenti. Nel corso dell'indagine è stato documentato l'utilizzo fraudolento di circa 30 carte di credito clonate per un danno complessivo causato alle parti offese di circa 300.000 euro. Le carte venivano asportate all'interno dell'ufficio di smistamento delle poste italiane di Napoli, da due dipendenti poi destinatari di misura cautelare, clonate e successivamente utilizzate in maniera fraudolenta in diversi esercizi commerciali di tutto il territorio nazionale. Nell'utilizzo fraudolento delle carte è stato anche ricostruito il passaggio di documenti falsi, in particolare contenenti i dati sensibili delle parti offese titolari delle carte di credito, dati sensibili che venivano captati mediante la partecipazione all'associazione per delinquere di due dipendenti destinatari del provvedimento restrittivo dell'ufficio anagrafe del comune di Napoli. 11 kg di marijuana amnesia sono stati sequestrati sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria nel tratto che attraversa il territorio comunale di Sala Consilina. La droga era in una valigia custodita nel portabagagli di un'auto guidata da un pregiudicato calabrese di 50 anni. Lo stupefacente sequestrato, immesso sul mercato al dettaglio, avrebbe prodotto un guadagno di circa 100.000 euro. È morto nella sua abitazione di Napoli all'età di 93 anni. Il professor Giuseppe Abbamonte, a lungo docente di diritto amministrativo all'Università Federico II, considerato uno dei massimi esperti della materia, era l'autore di alcuni tra i più importanti testi universitari e generazioni di studenti si erano formati ai suoi insegnamenti. Fino all'ultimo aveva continuato l'attività di avvocato e collaborato con riviste di diritto. Armato di una siringa, rapinato 2,50 euro ad un ragazzo che era in attesa di un bus è successo a Napoli, soccorso Arnaldo Lucci, dove gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato il malvivente. L'autore del singolare colpo è Luigi De Lucia, 36 anni di Maddaloni, ora è accusato di rapina aggravata e resistenza pubblico ufficiale. Uno spacciatore africano originario del Gambia, Omar Mint, di 34 anni, è stato arrestato la scorsa notte dagli agenti della sezione OPG della questura di Napoli nella zona dei Decumani, nei pressi della Basilica di San Giovanni Maggiore. L'uomo è stato sorpreso mentre stava vendendo una dose di sostanza stupefacente. Addosso il pusher aveva 45 euro. Continuano senza sosta le ricerche di Giuseppe Pettoriossi, il pensionato ottantenne di Basilice, di cui non si hanno più notizie da sabato scorso. Sentiamo i dettagli. È uscito per andare al bar, un bar che di solito frequenta, e che però quel giorno era chiuso. Avrebbe proseguito la passeggiata, ma da quel momento non ha fatto più ritorno a casa. È preoccupazione a Basilice da sabato 10 dicembre per la scomparsa dell'ottantenne Giuseppe Pettorossi. Sono riprese le ricerche da parte dei vigili del fuoco, di carabinieri, protezione civile e cittadini. Utilizzati anche cani molecolari dei carabinieri fatti arrivare da Firenze. In soccorso delle squadre di ricerca sono arrivati anche un drone speciale che dall'alto ha mappato l'aria, una nuova unità cinofila da Matera, operai forestali, ma anche e soprattutto tanti cittadini che stanno battendo palmo a palmo il territorio. Eppure per ora niente, tutti gli occhi sono concentrati nelle campagne a valle del quartiere Erbastella. Che fine ha fatto Giuseppe? Ha perso l'orientamento? È stato colpito da un malore? Ogni angolo viene setacciato nella speranza di ritrovarlo sano e salvo. Il Tribunale di Santa Maria Capavetere ha condannato a 14 anni e 6 mesi di carcere l'immigrato georgiano trentenne per la violenta rapina in abitazione commessa il 5 giugno 2015 a Caserta ai danni di Mara Zinzi, figlia dell'ex presidente della provincia di Caserta, Domenico Zinzi, e sorella. Nel consigliere regionale di Forza Italia Giampiero, i giudici hanno inflitto all'uomo 12 anni per la rapina aggravata e le lesioni e due anni e mezzo per la falsificazione del documento di identità. Un altro complice è ancora ricercato. Essorzione ai danni di un imprenditore di Mercogliano, in provincia di Avellino, settantenne, arrestato nel servizio. È l'arresto per essorzione di un settantenne residente ad Avellino e con a carico svariati i precedenti il bilancio dell'attività investigativa condotta dai militari della stazione di Mercogliano e del nucleo operativo della compagnia di Avellino. Al termine di una lunga ed articolata indagine, gli uomini del comando provinciale sono riusciti a cogliere in flagranza di reato un estorsore seriale che colpiva un imprenditore nel comune di Mercogliano. Questi, estenuato dalle continue minacce di morte e richieste di denaro che gli venivano rivolte ormai da anni, dopo l'ennesimo episodio ha deciso di denunciare il tutto presso la stazione Carabinieri, punto nevralgico dell'arma dei militari e primo contatto con i cittadini. Gli uomini dell'arma, coadiuvati dall'aliquota operativa, hanno analizzato tutti gli elementi a disposizione ed organizzato un mirato servizio. Ed è stato così che i Carabinieri, grazie anche al coraggio della vittima e alla profonda conoscenza del territorio, hanno colto nella flagranza di reato il settantenne che aveva appena estorto denaro contante all'imprenditore Irpino. Scattate le manette ai suoi polsi, l'uomo espletate le formalità di rito presso il comando provinciale, è stato condotto presso la casa circondariale di Bellizia Irpino, dove tuttora si trova a disposizione della procura irpina, diretta dal procuratore Cantelmo. Dopo una giornata di braccio di ferro, gli studenti del liceo genovesi di Napoli hanno lasciato l'istituto che volevano occupare per protestare contro alcune restrizioni decise dalla preside. La decisione di desistere è stata adottata dopo un incontro con la dirigente del liceo, ottenuto anche grazie alla mediazione degli agenti della Digos della Questura di Napoli. Niente doppi turni per la San Filippo, il comune di Benevento mette a disposizione tre aule. Il primo cittadino della città, Mastella, a margine di un incontro, in prefettura commenta Palazzo Mosti non è in alcun modo coinvolto nella vicenda che riguarda il convitto. Sentiamo. Al vertice in prefettura hanno preso parte la dirigente dell'istituto di Piazza Roma, Giuseppina Ferriello, i vertici della provincia e del comune dell'ufficio scolastico provinciale. Sul tavolo il caso del convitto Giannone di Benevento. A seguito della vicenda esplosa lo scorso 2 dicembre, quando la preside ha comunicato ai genitori dei ragazzi, regolarmente iscritti alla San Filippo, che a causa di una interdizione del comune per la ridotta capienza delle aule, gli studenti sarebbero stati costretti ad alternarsi tra i banchi. Dalla comunicazione si passò alla protesta delle famiglie. Nel corso di una riunione straordinaria decisero di andare a protestare a Palazzo Mosti per chiedere una risoluzione veloce alla vicenda. Risposte che oggi sarebbero arrivate, almeno per quanto riguarda i doppi turni. È emerso innanzitutto un doppio piano. Il primo è quella funzionalità perché c'è la inidoneità di alcuni alunni per gli spazi di convivere o gli spazi stessi. Il rapporto è 13 e invece occorrebbe fare una cosa diversa. Per cui noi come comune abbiamo detto che siamo disponibili a dare, alcuni locali che già sono stati precedentemente, tre aule nel San Filippo laggiù dove stanno le suore, quindi c'è anche la mensa. Per cui per quanto ci guardi il problema è risolto. Questo vale per le famiglie, che significa evitare il doppio turno. Quindi con le tre aule che noi diamo come comune mettiamo a disposizione, facendoci carico di questo evitiamo il problema. Diversa è la questione che si è posta qua del convitto, quindi va spiegato anche agli esposti fatti, eccetera. Il convitto non è una questione del comune, perché attualmente in virtù di una convenzione che esiste, il rapporto è tra il demanio e la provincia, non tra il demanio e il comune. Quindi noi non c'entriamo proprio. Abbiamo detto alla fine, fermo restando che dopo le feste natalizie i ragazzi potranno andare per evitare il doppio turno mattina e pomeriggio nelle traule, in modo tale di solo il problema, e adesso si porre la questione per quanto riguarda il convitto, rimane, non rimane, semiconvittori, convittori. Questo è un problema che devo dirimere all'interno dell'Università della Pubblica di Istruzione, non riguarda noi. Se poi il demanio alla fine dovesse dire ve lo prendete il convitto, noi decidiamo se prendo bene il convitto, ma insomma evidentemente siamo anche disponibili laddove ci sono le condizioni. Ma per oggi è solo la funzionalità, per la funzionalità scolastica e quindi educativa e formativa, il comune ha dato la risposta, ma non da oggi. Già precedentemente avevamo detto alla preside, alle mamme che io ho incontrato, che noi siamo disponibili e abbiamo trovato la soluzione. Resta tuttavia da chiarire che fine faranno gli spazi del convitto Giannone che attualmente sono utilizzati dal liceo Guacci, ma sentendo le parole del sindaco Mastella toccherà all'ufficio scolastico provinciale, provincia e al ministero della pubblica istruzione per mancanza di competenza trovare una soluzione. La rocca dei rettori in particolare dovrà necessariamente esprimersi, mentre nella scuola di Piazza Roma sono presenti diverse figure professionali che però non possono espletare le mansioni di servizio mensa in studio assistito a causa della mancanza di spazi adeguati. Un caso che la dirigente Ferriello ha denunciato alla Procura della Repubblica, alla Guardia di Finanza e all'ANAC. Martedì nero sul fronte trasporti per i cittadini di Napoli e dell'intera città metropolitana, tutta colpa dello sciopero degli autobus ANM e CTP. Sentiamo. Uno stop in pieno fervore natalizio, tra limitazioni al traffico e ZTL. Uno sciopero annunciato dalle 9.30 alle 13.30 per autobus ANM e CTP, metropolitana linea 1 e funicolari. Fermi quattro ore, anche gli ausiliari della sosta. Regolari invece le corse della linea 2 San Giovanni Pozzuoli, gestita da Trenitalia. Adesione altissima a Napoli. La mobilitazione è stata decisa per scongiurare il fallimento dell'ANM, la più grande azienda di trasporti cittadina. Lo sciopero arriva dopo quattro incontri, andati a vuoto tra i sindacati e gli assessori al bilancio Salvatore Palma e alla mobilità Mario Calabrese, a cui si aggiungono altre riunioni con la dirigenza. Hanno incrociato le braccia sei sigle, CGL, CISL, WILL, UGL, URSA e Faisa CISAL. Tra le motivazioni della protesta, la grave crisi finanziaria della holding, che gestisce bus, metro, funicolari e Napoli Park, di proprietà del Comune, azienda imperdita di esercizio per 51 milioni e mezzo. L'Assemblea dei Soci, prevista per venerdì 16, è stata rinviata al 28 dicembre. In questa sede si decideranno le sorti dell'azienda. L'unica strada possibile è la ricapitalizzazione a fronte delle consistenti perdite. In più si formalizzerà la richiesta del Comune alla Regione di garantire servizi minimi, finora a pannaggio, tranne che in alcuni casi, di Palazzo San Giacomo. Tutto questo si traduce in servizi carenti, lunghi attesi alle fermate, e procura forti disagi agli utenti. In più la gara per i nuovi treni della Metropolitania Linea 1 è bloccata a causa di un ricorso da parte delle aziende che hanno partecipato al bando. La prima udienza che si è svolta agli inizi di novembre. Tutto si blocca e le attese in banchina aumentano. Con il broncio anche i dipendenti CTP dell'ex provincia, ora in carico alla città metropolitana, ugualmente sull'orlo dell'astrico. L'azienda soffre ancora troppo per il forte indebitamento pregresso. Più di 600 lavoratori della FCA di Pomigliano d'Arco a rischio trasferta a Cassino, attesa per l'incontro a sindacati azienda per discutere proprio la proposta. Sentiamo. Circa 650 operai dello stabilimento FCA di Pomigliano d'Arco potrebbero partire in trasferta per lo stabilimento di Cassino, provincia di Frosinone, dove si produce l'Alfa Giulia e il SUV Stelvio. Secondo quanto si apprende, le trasferte e le relative indennità dovrebbero essere discusse nelle prossime ore nel corso di un incontro tra azienda e sindacati in programma a Roma. Sul tavolo ci sarebbe la proposta di FCA di mandare in trasferta gli operai pomiglianesi che vantano un'ottima preparazione professionale in attesa delle nuove assunzioni nello stabilimento di Cassino ma con la sola indennità di viaggio la possibilità di Pullman per accompagnare i lavoratori. La proposta però non sarebbe andata giù ai sindacati che da parte loro chiedono anche un'indenità di trasferta ma soprattutto l'inserimento nell'accordo di una nuova missione produttiva per Pomigliano stabilimento dove vige il contratto di solidarietà per 3.217 lavoratori sui circa 4.500 in organico e dove al momento si produce la sola panda il cui modello dovrebbe essere sostituito nel 2018 situazione che diventa ancora più tesa secondo indiscrizioni trapelate dalla possibilità che ha FCA di optare per un trasferimento diretto senza ricorrere alla trasferta volontaria situazione questa che sta agitandola un po' con le maestranze dello stabilimento preoccupate dall'eventualità di essere trasferita in altro stabilimento e con poche possibilità di rientro a Pomigliano. I celiaci nel nostro paese sono sempre di più tanto che in soli due anni gli italiani colpiti da questa malattina sono aumentati di circa 11.000 unità è il quadro che emerge dalla relazione annuale 2015 al Parlamento del Ministero della Salute nel servizio anche il dato campano sentiamolo quasi triplicati nell'arco di 8 anni sono gli italiani affetti da celiachia passati da 64.398 del 2007 a 182.858 del 2015 e ciò avviene grazie soprattutto alla sensibilizzazione dei medici e degli operatori sanitari il dato emerge dalla relazione annuale al Parlamento sulla celiachia del Ministero della Salute i celiaci in Italia il 31 dicembre 2015 risultano 182.858 quasi 11.000 in più rispetto al 2014 le regioni che hanno registrato il più alto numero di diagnosi sono la Campania con 2.268 e la Lombardia con 1.867 per maggior numero di celiaci residenti al primo posto si colloca la Lombardia con 17,7% e al secondo posto a pari merito la Campania in Lazio la popolazione celiaca per la natura autoimmunitaria della malattia risulta interessare più le donne 129.225 che gli uomini 53.633 il celiaco si sottolinea nella relazione che rileva anche le tutele e l'assistenza previste con i nuovi livelli essenziali di assistenza non è però solo a gestire la sua condizione ma dalla sua parte a un mercato che gli offre una vasta gamma di prodotti senza glutine un servizio di ristorazione sensibilizzato e formato che gli garantisce un pasto senza glutine anche fuori casa e infine una normativa nazionale che da un lato promuove la prevenzione e la diagnosi precoce e dall'altro sostiene e supporta economicamente la necessaria dieta senza glutine inaugurati i mercatini di Natale il taglio del nastro sabato a Cagliaccio evento pilota di creazione festival il festival della produzione cinematografica d'autore organizzato dal comune appunto capofila di Cagliaccio e finanziato dalla regione Campania che coinvolgerà sette paesi dell'alto casertano nell'ambito dello stesso progetto saranno realizzate due opere cinematografiche un documentario e un corto di fiction affidate ad un concorso aperto a giovani autori di tutta Italia produzioni che saranno ambientate proprio a Cagliaccio ed intorni vi invitiamo a non perdere la nostra rubrica eventualmente che andrà in onda subito dopo il TG e si occuperà appunto di questo evento siamo allo sport serie A seduta pomeridiana per il Napoli a Castel Volturno gli aggiori preparano il match contro il Torino di domenica per la giornata numero 17 di serie A alle ore 15 la squadra si è divisa in due gruppi gli undici che sono andati in campo dall'inizio contro il Cagliari hanno svolto attivazione e lavoro tecnico gli altri uomini della Rosa dopo l'attivazione sono stati impegnati in una serie di partitini a tema per poi terminare la seduta con una partita a campo ridotto terapie per Coulibaly serie B ripresa degli allenamenti al partenio Lombardi in vista della trasferta di Bari indisponibili in casa Avellino Migliorini Don Corre e Paghera quest'ultimo si è sottoposto ad indagini strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare di primo grado all'aduttore destro proseguirà con terapie lavoro ridotto per Gonzales in gruppo Sumare Benevento in campo da oggi per la preparazione domenica alle 17 al Vigorito arriverà Lascoli gli stregoni sono ad un passo dalla vetta ed era questa l'ultima notizia vi lascio in compagnia delle previsioni del tempo della nostra rubrica eventualmente di tutto il seguito della nostra programmazione arrivederci al prossimo Media News Grazie a tutti Previsioni per mercoledì 14 dicembre 2016 possibili piovaschi in arrivo su Lazio e Sicilia per il resto bel tempo generale ecco il dettaglio preparato da ilmeteo.it al nord consueta presenza di foschie e nebbie sulla pianura padana in parziale dissolvimento durante la giornata sole sui rilievi alpini e prealpini spostiamoci al centro possibili piovaschi sulle coste del Lazio cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sul resto delle regioni salvo isolati addensamenti ma occasionali raggiungiamo infine il sud più nubi sulla Sicilia con piogge sparse più consistenti sul Trapanese soleggiato con nubi sparse sulle altre regioni come saranno invece i venti saranno da direzioni variabili concludiamo come di consueto con le temperature previste per questa giornata le minime risultano essere in leggera diminuzione valori che saranno dunque compresi tra meno 4 e 14 gradi circa durante il giorno prevediamo 1-12 gradi al nord 7-11 gradi al centro e fino a 16 gradi al sud al nord al nord al nord al nord Grazie.